Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi ho anticipato su Instagram, per tutti quelli che mi seguono su Instagram, ho deciso di dedicare il mio canale YouTube ai miei subscribers o followers italiani. Quindi d'ora in poi creerò video su YouTube in italiano e il mio Instagram rimarrà in inglese, così cerco di fare un po' contenti tutti, insomma un po' da far capire quello che dico a tutti quanti. Allora, oggi volevo farvi vedere la nuova collezione di Huda Beauty, Diamond Obsession, e oggi ovviamente vi mostrerò come ho creato questo look usando le nuove palette di Huda Beauty. Io non so se si dice palette, non penso si dica palette in italiano, quindi se avete dei suggerimenti scrivetemi qui sotto che li apprezzo. Allora, questa è la collezione, abbiamo il verde, il blu, il viola, il rosso e l'arancione would say, troppo pazzi. Allora, lo so che magari comprarle tutte sarebbe un po' troppo dispendioso, però vi suggerisco di magari dare un'occhiata al website e vedere quali sono i colori che più pensate di usare o che più vi piacciono. Per esempio, le mie preferite sono quella viola e quella blu, le adoro. Adesso ve le faccio vedere. Dunque, questa è quella viola, è bellissima, poi è uno dei miei colori preferiti, e questa è quella blu. Sono super pigmentate, quindi sono proprio facilissimi da sfumare con ombretti. Oggi però, per questo look, ho usato in realtà la Ruby Obsession, che è questa qui, che è questa qui. Eccoci qua, è bellissima, io adoro anche questa qui. Insomma, è un po' difficile la scelta, ad essere sincera, però comunque ho usato questa, ho usato questa blu, che ripeto è una delle mie preferite, qui per la parte inferiore degli occhi. E ho usato anche questo colore qui, della Top Up Obsession. Vi potete seriamente sbizzarire con quello che potete creare con questa collezione, ci sono veramente tutti i colori che potete immaginare. Se siete interessati a scoprire come sono riuscite ad ottenere questo look, continuate a guardare! Grazie a tutti! 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 Sono felice di iniziare a parlare di più in italiano nei miei video. Spero vi sia piaciuto, alla prossima!